A Biceglie al Via i lavori di comunità e i tirocini grazie al reddito di dignità. Quest'anno nel comune bicegliese, fra i pochi in Puglia ad avviare questa iniziativa, sono stati ben 56 i cittadini beneficiari del reddito di dignità 3.0. Ascoltiamo le parole del sindaco Angelo Antonio Angarano. La città di Biceglie anche quest'anno ha avviato l'esperienza dei progetti di comunità e dei tirocini privati per i beneficiari del reddito di dignità. è una misura della regione Puglia che promuove l'inclusione sociale attiva e integra con un contributo economico i redditi delle persone in difficoltà. Lo scorso anno il comune di Biceglie era stato, fra i pochi comuni di Puglia, ad avviare questa iniziativa. Quest'anno, grazie alla volontà dell'amministrazione comunale e al lavoro sinergico dell'ufficio di piano trani biceglie, sono stati ben 56 i bicegliesi beneficiari del reddito di dignità 3.0. Cominciano dal 1 marzo i lavori di comunità e i tirocini privati per 56 beneficiari del reddito di dignità 3.0 della regione Puglia. Si tratta di 56 persone in tutto. I primi 30 cominciano in questi giorni e svolgeranno lavori di comunità presso l'amministrazione. Per fare qualche esempio si occuperanno dell'apertura della biblioteca comunale appena ciò sarà consentito dall'emergenza in atto. Faranno servizi di guardiania presso gli impianti sportivi e i parchi pubblici. Altri svolgeranno attività di informazione e di assistenza presso gli uffici comunali. Oggi ci consente questa grande professionalità di poter essere una delle prime città in Puglia che attivano questo servizio e soprattutto ci rendo orgogliosi perché stiamo consentendo a persone, ripeto, in condizioni di particolare fragilità di fare un'esperienza lavorativa, un'esperienza professionale, un'esperienza di formazione. La speranza è quella che finalmente si passi da un'attività non veramente assistenzialistica ma si tenda verso una nuova maniera di affrontare la fragilità sociale. E questo grazie chiaramente alle progettualità della Regione Puglia e delle risorse messe a disposizione si passi a un sistema integrato di assistenza che appunto mette al bando l'assistenzialismo e invece combatte in maniera anche preventiva l'emarginazione sociale.